ma che cosa fantastica per i miei ho un squadarito che mi viene a truccare AVA! Ma che schifo! mannaggia a te mannaggia a te mi spieghi perchè ti trucchi perchè non voglio far risaltare il monte etna che c'ho nella fronte però ho macchiato un capello è il mio compleanno e io mi devo smerdare e quindi ovviamente facciamo un altro video oggi quindi oggi siamo qui tornati su fortnite in un altro episodio e nulla oggi da un pochino una cosa sarà diversa e molto molto da sputtanamento per me perchè qualcuno ogni volta che farò uno kill mi truccherà spero di non farne tante perchè se no comunque auguri a me 17 anni grazie per gli auguri mi stai dicendo sotto nei commenti solo che siete in tantissimi grazie a farmi gli auguri sotto nei commenti e quindi direi di iniziare ora con il video ovviamente passate su instagram perchè è lì che io faccio capito no? allora prima mi devo caricare vale una giocata vale una giocata questo vuol dire che è come una slurp di fortnite solo che basta cucchia all'orecchio e si parte cassa al martello e si parte solito ballo di merda mi sono tolto un puntino alle palle con sto ballo sinceramente giusto però allora clava tu preparati i trucchi perchè mi sono tolto fai tu fai tu no ma a me tremano le mani perchè io non so toccare gli altri fai il secondo correttore non me ne metto perchè mi è finito non mi sta finendo si li sto ascoltando si li sto ascoltando ok allora allora ovviamente singolo la porta si aprirà fra 3,8,7,6 buttiamoci in maniera molto ti piace questi colori verde speranza blu notte viola viola daltonica e bianco speciale allora tomato domenito domenito dà attenzione là ce n'è uno ma cosa ho visto qua ma un bel pompa blu ma che cosa fantastica per i miei dov'è 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 sto figlio intanto qua ci prendiamo pure la revolve cosa rido che mi devi truccare truccami si mentre giochi è molto truccami non posso mettere pausa quindi truccami c'è un altro ecco che oh ma non lo pre ti faccio anche la traccia uccidi wow perfetto allora ti devo fare che me la trovo cucciata ora ti devi stare fermo dai che già devo le lunghe io mannaggia te il mio sogno non ti devi stare fermo eh sì ma se mi fa fastidio come posso vai ora è bellissimo immagino ho fatto due kill quindi pure l'altro occhio dai e ora come faccio cioè non so non hai idea di come fare dai qualcuno applaude qualcuno applaude è là è là è là è là è là ferma ferma mi sta pushando mi sta pushando mi sta dove 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 sto figlio di buona madre ah non riesco a chiudere gli occhi riesco a chiudere gli occhi non riesco a chiudere ah mi ha fatto male ma sono morto sono morto vabbè niente mi sa che finito di truccarmi sta fai dando con un altro che culo che si si io ho l'altro però mi scanna au come rossetto dando il color carne si è tutto fashion cos'è le labbra chiusi o aperte chiuse fai funge no funge no 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 non male non male mi pare che c'è il morbo di parkinson mi sono pacchi mi sto sforando fermo quanti sono pushando fra di voi ti prego pushando fra di voi aspetta questo bambino dai non me lo uccido non me lo uccidevo vabbè te l'ho messo a casa ma che schifo comunque è un altro kill certo io uso quello scarso perché io quello nuovo non lo uso per te ma è il mio compleanno allora il correttore mi sta finendo non l'ho messo perché io non lo spreco fai quello scarso no devi chiudere l'occhio perché se no non ci riesco non così male amore perché non colore c'è l'occhio non colore non ci riesco amore aspetta devo usare quello buono ma c'è un altro c'è un altro si tu muoviti è eliminato altre due cose quindi puoi farmi anche dall'altra parte se lo sai no mannaggia te mannaggia te mi fa mali mi sta bruciando l'occhio chiudi la no 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 muoviti muoviti perché ci sono tre ore che ce l'ho aperto ma che schifo tu ti muovi devo giocare ci credo va bene va bene così va bene così sia di sedi va bene così col carrello col carrello col carrello tensione va via ah manco un'altra cosa sbaglio aspetta aspetta ecco ma c'è ma c'è mi sono visto un fucile una fucile in faccia ho tolto lo scudo ho tolto lo scudo oh ma quando gli ho tolto sono forte ma oggi cosa 7 kill non so cosa sta succedendo sarà il video più bello della storia madonna madonna è come guarda Gesù ma se c'è una persona c'è lì l'hai nel blu io cosa che schifo mi sento la propiccicosa come fai a tenere il rossetto ma che schifo auguri cristiano grazie grazie madonna chi è che spalla ma vabbè mi dovete scassare le pa... ma davvero mi volete far fare truccare da claudia in tutti i luoghi in tutti i posti in tutti i luoghi in tutti i laghi ma ti chiamo sempre quando io sto uscendo facciamo così io direi con 8 kill di quittare sinceramente da tuo padre non mi voglio far vedere così quindi 8 kill sono bastate quindi spero che il video vi piacerebbe ci sono noi che scrivete con il video in descrizione come al solito come al solito consigliate altri video da fare qua sotto nei commenti come al solito qui dal festeggiato Drake e qua è tutto grazie per il trucco di merda bella bella a passare il sistema perché l'unico sono io qui alo